Nelle cesse di 2019 della Bagnaia due brand importantissimi non possono non essere presenti Safe Riding e Tenuta Montemagno e questi due brand fanno capo ai BAREAS Vanessa, Tiziano e Laura sono venuti qui a trovarci nel salottino VIP, nel salottino dei vincitori Vanessa sei stata fenomenale, stai vivendo un momento d'oro e poi diremo anche perché però intanto vediamo Vanessa con Cavalli Neiman, che momento stai attraversando? Io ti ho visto la settimana scorsa ma voglio che sia tu a parlarne Ma è un momento molto positivo per tutti i miei cavalli, la mia cavalla storica settimana scorsa ha vinto al Global è una grande grande soddisfazione, volevamo ritirarla dalle competizioni e invece no E invece no, il mio cavallo giovane Cavani, lo stallone, ha otto anni, sta crescendo adesso sono i primi veri giri grossi che sta facendo ma si sta comportando davvero bene è sicuramente un cavallo su cui puntare nel futuro e che potrà fare delle gare davvero grosse e buone Pronto a giocarmi la casa allora, parliamo del nostro sponsor Safe Riding, abbiamo qua alcuni dei migliori esempi di questo brand che insomma non ha bisogno di presentazioni Ma devo dire che sono molto contenta perché anche ieri in premiazione nella 40 su 8 in premiazione 4 avevano le nostre staffe Quattro nostri testimonial, tutti quanti hanno ottenuto un ottimo risultato e cominciamo davvero a vedere i frutti e l'impegno che mettiamo in questo prodotto a tutto tondo Sentiamo allora se è d'accordo con te un altro rappresentante di un brand importante Sempre Barea si chiama, però Tiziano sta avendo dei risultati anche lui molto importanti E allora sentiamolo Tiziano Barea Grazie Cristian, beh intanto direi che ci troviamo in una cornice, in un luogo veramente magico Ti regala un'emozione e piacere di trovarsi in questa location veramente da grande soddisfazione E qui siamo presenti con le staffe, Vanessa, siamo in concorso quindi abbiamo anche questa grande piacere e soddisfazione E poi cerchiamo di alliettare tutti con i nostri vini tenuti a Montemagno E beh sì, poi li assaggeremo Però prima volevo sentire una cosa da Laura, perché? Perché io so che stai vivendo anche tu grandi emozioni per le belle prestazioni di Tiziano E per la splendida, splendida settimana che sta vivendo in questi giorni proprio Vanessa E' vero Però sarai una mamma con le palpitazioni Perché? Perché? Perché Vanessa il prossimo anno si sposa Si sposa dopo dieci anni con un bravissimo e bellissimo ragazzo E' la nostra soddisfazione, siamo una bella famiglia io credo E ci fa piacere condividere con gli altri anche queste emozioni che sono fondamentali direi Senti, allora facciamo così Per ingannare i tempi televisivi Facciamo dire le ultime volontà Da Nubile Da Nubile A tua figlia E noi cominciamo a sbocciare E noi sbocciamo anche perché oggi è compleanno di Cristiano Per cui bisogna festeggiare assolutamente Questo giovane Va bene, ascolta Sentiamo allora le ultime volontà da Nubile Senti, ma non è che poi dopo lui ti dice o me o i cavalli Sboccia intanto, sboccia Ti dice o me o i cavalli Non credo proprio perché è obbligato a venire in concorso anche quando non vuole Giusto per fare un esempio, ieri è atterrato dagli Stati Uniti Da Chicago? Esatto Ha preso direttamente la macchina ieri sera ed è arrivato qua a Bagnaia Non per chiama te, non per chiama i cavalli Su È vero, sicuramente In caso ti dicessimo i cavalli tu gli ricordi che c'è un altro sport Trampolino, tuffi Ciao ciao Giusto Ok? Benissimo E allora Sentiamo Com'è andata questa sbocciata? Beh direi bene, c'era una bella pressione Sicuramente è una buona bottiglia Ok Le bollicine non vedevano l'ora di vedere la luce E qui Ah sì, questa è la nostra bollicina tenuta a Montemagno Tenuta a Montemagno È un metodo classico, uno champagne italiano fatto con uve barbiera in purezza Allora, tre bicchieri sono per i maggiorenni Assolutamente Perché la bambina non può bere No, no Ok, allora con un brindisi Lasciamo a lei il microfono e noi bicchieri Sei contenta che noi beviamo? Tu no? No, no, prego Assolutamente Alla tua salute E complimenti signori Al salottino VIP I BOREAS Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti